Gli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni hanno proceduto al controllo di due individui di nazionalità rumena ed ucraina che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi della locale stazione ferroviaria. Gli uomini, risultati entrambi privi di documentazione attestante l'identità personale, sono stati sottoposti a perquisizione che ha portato al rinvenimento addosso al cittadino rumeno di un coltello a serramanico occultato in una tasca dei pantaloni. Presso gli uffici del commissariato è stato accertato che il cittadino ucraino è clandestino sul territorio nazionale e che entrambi risultano pregiudicati per reati contro la persona del patrimonio. Il cittadino rumeno è stato deferito all'autorità giudiziaria per porto abusivo di arma, mentre per l'Ucraino, trattenutosi illegalmente sul territorio nazionale, sono state avviate le previste procedure volte all'espulsione dallo Stato.